Interventi decisi per guardare al futuro, la Regione Lazio lavora convinta e lo testimoniano le azioni volte a sostenere la ricerca per il 2016-2018. Il presidente Nicola Zingaretti e il suo vice Massimiliano Smeriglio presentano il piano pensato per il prossimo biennio dove l'investimento complessivo si aggira sui 131,7 milioni di euro. Ci sono politiche fino a 170 milioni di euro affinché si rimetta nella giusta dimensione, nella giusta dignità, questo immenso mondo della ricerca universitaria. Questa volta si punta sulle eccellenze scientifiche sul capitale umano dando priorità ad un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza senza dimenticare l'importanza della ricerca per la salute e la qualità della vita del cittadino. Riflettori accesi sul bando di ricerca del 2016 rivolto a tutti i ricercatori del Lazio e pubblicato in data 15 novembre 50 progetti finanziati dalla Regione e sostenuti al 100%. Ogni singolo gruppo di ricerca potrà richiedere un finanziamento fino a 150 mila euro. Addirittura 5 i bandi per il nuovo distretto tecnologico-culturale con il centro di eccellenza alta formazione e polo innovazione, gli interventi di promozione e internazionalizzazione, quello per il capitale di rischio e il centro di eccellenza tecnologie per lo spettacolo dal vivo. Lazio già lavora costantemente su alcuni grandi ambiti, pensiamo alla bioscienza, alle tecnologie per la cultura, all'aerospazio e a tutto il mondo della sostenibilità ambientale. Un investimento pari a 171,7 milioni di euro se si considera quanto messo in campo dalla Regione nel periodo che partendo dal 2013 arriva al 2018.